Depulso! 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 Cerca di trovare un modo per farci arrivare alla sezione giuridica, Ron. Va bene. Depulso! Depulso! Di bec h syndicino Adios! Depulso! Le dump Depulso! La scala della libreria! Adesso ci penso io, Ron Voi due controllate che non arrivi nessuno Se arriverà madama Pinsti faremo un segnale Allora! 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 Wow! Stracopico! Allora! 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 Il libro ad Hagrid Via di qui! È impazzito! Oh no! Forse faremmo meglio a dare un'occhiata Non abbiamo lezioni di incantesimi adesso? Sì, ma forse abbiamo il tempo per dare una lezione a quella cosa, qualunque cosa sia Sta a te decidere, Harry